ciao a tutti e bentornati allora nel riassuntone di oggi torna un personaggio che ha fatto tanto discutere qualche mese fa e noi partiamo proprio da lei la sirenetta di ostia che torna dopo una breve pausa da youtube con dei video asfalto ultimo della serie dedicato proprio alla mendace medium allora in questo breve video la sirenetta esprime quello che il suo parere in merito al personaggio dicendo che riscontra in lei tante frustrazioni dovute forse ai suoi trascorsi trascorsi che anziché ammorbidirla nei confronti degli altri invece l'hanno incattivita un malessere che rigetta principalmente su chiara e la sua famiglia con critiche costanti sull'aspetto e qui la sirenetta sottolinea che essendo la medium una donna poco fine poco curata dovrebbe prima di giudicare gli altri guardare il suo di aspetto e da qui in poi anziché chiamarla la dama la chiama ursula che per chi non lo sapesse è la strega del mare nel cartone animato della sirenetta pertanto invita ursula a usare maggiore autocritica talmente risentita dalla poca bonarietà di questo personaggio la sirenetta è arrivata addirittura a cancellare pure il video che fece tempo addietro in difesa della dama perché ad oggi si vergogna di aver difeso un personaggio del genere la sirenetta dice io ho provato a seguire qualche sua live ma dopo un po mi sono cadute le palle riscontrando in lei un enorme pesantezza perché perché ha un unico argomento e cioè chiara d'alessandro il suo video si conclude con il saluto della sirenetta per ursula la strega del mare bene e noi cambiamo personaggio parliamo di davide che oggi ci ha proposto un video sfogo dalle tinte molto forti il vlog in questione porta per titolo quello che state facendo a mia moglie è grave e adesso andiamo a riassumere il tutto il vlog parte con davide in difesa estrema di chiara il caos è nato perché perché chiara in un suo recente video hall ha mostrato un body intimo rosso ed ha ricevuto tante critiche a suo dire immotivate i punti sono prevalentemente due punto primo il body non è stato preso per festeggiare il san valentino in modo peccaminoso punto secondo le sta perfettamente e adesso andiamo a quella che è l'analisi fatta da davide davide dice agli ethers da fastidio il fatto che chiara sia partita con gli spacchettamenti avon e sia arrivata dove in cima fino ad essere annoverata tra quelli che noi definiamo vip e qui un utente dice ma c'è una soluzione a questa brutta situazione ma certo che sì e ce la propone davide perché davide invita ad invidiare meno e lavorare di più per raggiungere gli stessi obiettivi ok avete preso nota bene in merito al dimagrimento di chiara è reale e quindi vi dovete rassegnare bene siccome abbiamo fatto riferimento all'ultimo video hall di chiara lo andiamo a recuperare il titolo del video è all magnifico primark di via torino e ci preannuncia degli articoli sfiziosi delle vere e proprie chicche siete curiosi no e chi se ne frega perché noi partiamo con una coppia di cuscini d'arredo di colore verde salvia bordati di rosa sono nella misura 50 per 50 e pagati appena 12 euro l'uno poi una giacca dei lakers col cappuccio è foderato e i polsini sono regolabili il tutto pagato 35 euro poi abbiamo il body rosso della discordia che si presenta con le coppe imbottite e tanti piccoli cuoricini bianchi decorativi mentre la parte bassa è in velo e in taglio per izoma una delizia pagata appena 16 euro a seguire un merdaviglioso copri copri che copri copri urina copripiumino copripiumino di lillo e stitch stick boh una cosa così rosa nella misura king di colore rosa l'avevo già detto beh e chi se ne frega mentre per il discorso decorazioni pasquali abbiamo dei coniglietti in stoffa un vasetto lilla in latta e qui un utente dice che forse il vasetto non è in latta io ho detto che lo è quindi il problema non si pone abbiamo inoltre dei funghetti di colore verde verde come i cuori persilio dunque i funghetti sono tre uno verde uno rosa e l'altro giallo e quindi tanti cuori gialli per e per chi vabbè aspettiamo che si inventano la morte di qualcun altro le decorazioni continuano con due uova di ceramica intagliate di colore rosa e azzurro in pratica cosa è successo che lei era andata al primark per effettuare il reso del cardigan e invece poi ne è uscita con due borse piene di roba e con queste due uova di ceramica si conclude il breve video haul e noi cambiamo personaggio perché fate ha postato nella sua community un breve comunicato con l'immagine di chiara che ha tra le mani quel body rosso peccaminoso scrivendo e stasera finalmente si truomba peccato che davidoppolo non può strappargli lo a morsi per mancanza di dentatura ci vediamo domani in live vastasi del mio cuore e la live è prevista proprio per questa sera col titolo stasera voleranno gnomi la live inizia con fate che sottolinea il fatto che chiara pretende rispetto per il suo status di invalidità ma non ha usato lo stesso rispetto quando minacciava di telefonare alla madre di dennis pur sapendo che aveva problemi di cuore dopodiché fate inaugura per il suo canale una nuova rubrica denominata la rubrica rosa con la premessa che questa rubrica farà vomitare si parte con leggere un commento scritto da luciana riferito ad erbetta e a werewolf definendolo integro moralmente il commento di luciana continua con copiosi complimenti rivolti sempre a questo ragazzo tanto che fate arriva alla conclusione che luciana si sia presa una cotta per lui dopodiché si ritorna al famoso commento di chiara di quando informava l'utenza che lei e davide avevano fatto il mambo in piscina ho detto il mambo perché nel caso che qualche minore apra il mio video poi non rasti sconvolto comunque mi rendo conto che tanti utenti sono nuovi e di questa faccenda ne sanno poco quindi andiamo a fare un breve recap della situazione allora era successo che chiara e davide erano andati in vacanza e lì a disposizione c'era una vasca jacuzzi che loro hanno utilizzato in maniera poco consona ecco stando poi un commento a nome di davide in cui diceva che era stato bellissimo fare il mambo in quella piscina con lei ora sotto quel commento erano intervenuti diversi utenti che le facevano notare che essendo un commento pubblico magari sua figlia si sarebbe potuta risentire chiara per tutta risposta risponde che anche sua figlia faceva il mambo nelle piscine a quel punto ci fu un intervento pubblico di Sharon che abboniva sua madre per queste dichiarazioni per poi passare all'ascolto di un audio di chiara dove dice che quando le è stata annunciata la morte di suo padre c'era Dennis presente la rilevanza di questo audio consiste nel fatto che lei recentemente aveva dichiarato che nel momento in cui le era stata annunciata la morte di suo padre lei si trovava a casa sua a Milano ed aveva il covid e siamo arrivati inesorabilmente a quella che è la zona rossa vi ricordate poco tempo fa chiara si vantava ad aver fatto chiudere il canale di le finte gravidanze eccetera eccetera bene perché pare che fate ha scoperto un sistema per riesumare i canali chiusi pertanto questo vuol dire che le segnalazioni inviate da chiara praticamente vengono rigettate ponendo così chiara in una posizione molto scomoda perché perché l'abuso di segnalazioni viene ammonito da youtube bene e questo è tutto in merito all'ultima live trasmessa dal canale di fate pertanto io adesso vi saluto e ritorno a quello che è il recupero dei contenuti più rilevanti che mi ero persa in questi giorni a voi auguro buona continuazione di giornata e vi invito a seguire quello che sarà il prossimo contenuto ma nel frattempo che succede tutto questo un bacio a tutti da Gossi